Flip, il pesciolino supereroe che salvò l'oceano. C'era una volta un piccolo pesciolino di nome Flip, che viveva nell'oceano. Flip era un pesciolino molto curioso e amava esplorare il suo habitat. Un giorno, mentre nuotava, vide qualcosa di strano galleggiare nell'acqua. Si avvicinò per vedere meglio e si rese conto che era un pezzo di plastica. Flip non aveva mai visto la plastica prima e non sapeva cosa fosse. La prese in bocca e la morse. La plastica era dura e sgradevole e Flip la sputò subito. Flip si rese conto che la plastica era pericolosa per gli animali marini. Poteva ferirli o addirittura ucciderli. Decise quindi di fare qualcosa per aiutare tutti. Flip iniziò a parlare con gli altri pesci dell'oceano. Raccontò loro che la plastica era pericolosa per gli animali e che poteva inquinare l'oceano. Flip spiegò che la plastica non era un prodotto naturale e che non poteva essere digerito dagli animali marini. Disse loro che la plastica poteva rimanere nell'oceano per centinaia di anni e che poteva ferire o uccidere gli animali che la ingerivano. I pesci ascoltarono attentamente Flip e capirono che aveva ragione. Promisero di aiutare Flip a raccogliere la plastica che era in tutto l'oceano. Flip era molto felice di aver potuto aiutare gli altri animali marini. Lavorò insieme ai pesci per raccogliere la plastica dall'oceano. Grazie agli sforzi di Flip e degli altri animali marini, l'oceano iniziò a essere più pulito. Gli animali marini erano più al sicuro e l'oceano era più sano. Morale della storia. La plastica è pericolosa per gli animali marini e può inquinare l'oceano, il mare, i fiumi. È importante non buttare la plastica in mare o nei fiumi. Fine della storia. Se questa storiella ti è piaciuta, sostienici con un pollice in su e iscriviti al nostro canale se non lo hai già fatto. Per tantissime altre storielle divertenti, grazie per la compagnia. Arrivederci e alla prossima avventura.